Ciao! Allora, facciamo un unboxing di uno dei regali di Natale che avete visto nel video precedente. Se non l'avete fatto, andatelo a vedere tutti i regali di Natale. Come vi avevo detto, alcune cose le recensisco, altre no, perché comunque non avrei tempo di fare la recensione per tutto. Però ovviamente questo è un oggetto che mi è piaciuto molto e che andrò ad unboxare, ed è la casa componibile di Barbie. Vediamo un po' la scatola. Come avete capito, non c'è nell'inquadratura perché è abbastanza grande e include una Barbie. Allora, qui sopra abbiamo il logo Barbie, la Two Story House and All, cioè praticamente cassa, due piani con bambola. Il logo Barbie, lo sfondo diciamo ormai per tutte le Barbie con tantissimi pua. Un artwork bellissimo di Barbie. Qui abbiamo una panoramica, il letto può trasformarsi in piscina, è portatile. Poi dietro ci fa vedere meglio che cosa contiene. Allora, questa è tutta, diciamo, la casettina. Gli accessori che sono inclusi, ne sono 13 e più pezzi. Possiamo anche salire le scale. Qui abbiamo un bellissimo artwork di Barbie e René. Qui un artwork di Barbie e le sue amiche. Allora, io adesso la vado ad unboxare. Poi, fra un po', la vedremo, appunto, costruita. Attendete, a fra poco. Ah, ed eccoci qui. Allora, partiamo da sopra. Questa è la stanza da letto con Barbie. Ciao! Allora, la Barbie, anzi, partiamo da Barbie. Allora, la Barbie è molto semplice. Ha un look proprio casalingo. Questo bellissimo abitino che è rosa, il colletto. Poi è tutto jeans con tantissimi pua bianchi e due pacchi rosa. E il trucco, diciamo, ha del mascare dell'ombretto di color rosa. E il rossetto è fucsia. Poi, al piano superiore abbiamo il letto con una sveglia. Questo, se lo cambiamo, può diventare una piscina. Ma, sinceramente, preferisco questa parte qui, diciamo. Lasciarlo con, appunto, come se fosse una camera da letto. Scendendo. Abbiamo la cucina, che è molto bella. Abbiamo messo una bella pentola sul fuoco. Essendo oggi Natale, dobbiamo preparare il pranzo natalizio. Perché fra un po' arriverà Ken, Stacy, Skipper e tutta la compagna Bella. Qui, invece, abbiamo un tavolo con sedie e accessori. E può diventare anche una TV. Ecco. Non so se riuscite. Ecco qui. Può diventare anche una TV. Poi, qui abbiamo, appunto, il bagno. Abbiamo un asciugamano. Un... Del gel. Del sapone. Un pettinino incluso. E possiamo fare anche una doccia. Appunto, alzando il water. Se lo alziamo, di mano incastonate, possiamo fare anche una bella doccia. Poi, la casa può essere completamente richiudibile. E quindi, diciamo che questa casa la possiamo portare ovunque, se vogliamo giocarci. Se è adatta anche per chi viaggia molto. Se la vuole portare in campeggio. Oppure per una vacanza. Oppure adesso, se l'avete ricevuta a Natale. Se siete fuori, ve la potete portare dietro tranquillamente. Bene, questa prima recensione natalizia termina qui. Godetevi questo giorno che è meraviglioso. E noi ci vediamo presto. Bye!